a spazio l'islandese può andare al cross in mezzo Toma anticipata la palla resta lì Trighe si coordina si mola Bardin per respingere la conclusione ancora Milan in avanti con Arna Dottir il cross in qualche modo poi Toma è sulla linea ribadisce in rete Dubkova di Toma rivediamolo meglio e si e si qui punta Santoro palla per Aslani prova a entrare dentro l'area Aslani il cross in mezzo il colpo di testa e l'intervento provvidenziale di Capelletti che nega il gol a Bergamaschi per Toma dentro l'area Toma l'appoggio ancora per Trighe prova a liberare il destro l'appoggio all'indietro Adami pensa al tiro lo effettua Adami la traversa la palla che resta lì Bergamaschi e il gol del Milan il Milan passa al sedicesimo minuto di gioco stavolta Bergamaschi riesce a trafiggere Capelletti nei primi minuti di gioco qui il bolide dalla distanza di Adami la prima ad arrivare sul comunque la rimessa con le mani resta in zona offensiva il Milan Dubkova per Aslani Aslani pensa al tiro a giro l'effetto Aslani è un gol stupendo quello della numero 9 del Milan secondo gol in campionato un tiro a giro sul palo più lontano Milan che va sul doppio vantaggio al trentaseiesimo il gol di Aslani Kosovare e qui guarda la porta non può mai e poi mai arrivarci lì Capelletti gol splendido di Aslani Tomà contro Capelletti il fischio del direttore di gara parte Tomà intuisce Capelletti e poi sulla ribattuta il gol del Milan che va sul 3 a 0 gesto di stizza qui di Capelletti che aveva intuito neutralizzato il rigore di Tomà e poi arriva Trighi il suo minuto della ripresa porta il Milan sul 3 a 0 anche in questo caso però chance da calcio piazzato con il pallone lungo a cercare il colpo di testa e il gol di Dubkova 4 a 0 per il Milan 4 a 0 con il colpo di testa di Dubkova salta più in alto di tutti al settantanovesimo minuto di gioco suggerimento di Tocceri Cimini prende bene il tempo proprio sulla entrata Giovanna Maia Dubkova a campo punta Cox si fa vedere Vigilucci dentro l'area Vigilucci prova il diagonale Tocceri Cimini e altro gol annullato per fuorigioco in questo caso a Tocceri Cimini siamo già oltre il terzo di recupero e infatti arriva il triplice fischio del direttore di gara finisce qui il match il Milan vince 4 a 0 seconda vittoria consecutiva per Lerossonere secondo K.O. di fila per l'anima per l'anima per l'anima per l'anima